Ciao a tutti, quest'oggi vi mostrerò come costruire delle luci LED su Minecraft. Per un risultato migliore, dovremo avere un muro nero. Partiamo con lo scavare qui sotto una riga profonda 2. E mettiamoci dentro delle lanterne marine. Ora scegliamo un colore. Io sceglierò il viola. Mettiamo dei vetri del colore scelto appena sopra le lanterne. Poi facciamo degli standardi personalizzati. Partendo da uno nero, facciamo una sfumatura del colore scelto verso il basso. E infine mettiamoli qui. In questo modo il pavimento sembrerà illuminato da delle luci LED. La stessa cosa si può fare anche sulla parte superiore di un muro. Rompiamo tutti questi blocchi e mettiamo vetri del colore scelto. Con sopra, lanterne marine. Questa volta gli standardi dovranno avere una sfumatura nella parte opposta. Per poi metterli qui. Così avremo anche i LED superiori. Come potete vedere, si possono fare di tutti i colori disponibili. E l'effetto LED ci sarà comunque. Scrivete nei commenti come li fareste voi. E con questo è tutto. Noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!